Giuseppe Conte, benvenuto. Buon pomeriggio. Benvenuto Presidente. Abbiamo già toccato alcuni temi caldissimi del mondo delle occupazioni. Il Festival del Lavoro non si può non parlare di un tema che diventa centrale quasi in ogni passaggio dell'economia, e cioè quello del taglio del cuneo fiscale, la possibilità di una riduzione del costo del lavoro. Mi dice qual è la sua posizione su questo tema e se lo ritiene praticabile in maniera profonda, così come chiedono i consulenti del lavoro e tutti i professionisti del settore. Guardi, da tempo io ho detto che, data la situazione difficile e severa, la prospettiva recessiva, secondo me anche severa, che stiamo per affrontare, è assolutamente necessario intervenire su questo aspetto del curio fiscale, perché la classe media ormai, non solo i lavoratori poveri, non solo le fasce più in difficoltà e vulnerabili della società, ma la classe media, il ceto medio è in difficoltà, c'è una consistente perdita del potere d'acquisto, le buste paga, quindi per i lavoratori devono essere più pesanti, meno peso anche sulle spalle delle imprese. Il Movimento 5 Stelle quindi vuole abbassare le tasse per mettere lavoratori e imprese a riparo da questa crisi. Questo per noi non è uno slogan, io l'ho ripetuto a più riprese e quindi bisogna assolutamente intervenire. Peraltro vorrei ricordare che noi abbiamo introdotto nel Conte 2 uno strumento importante per cercare di colmare il divario Nord-Sud, perché se riparte Sud riparte tutto il Paese, decontribuzione Sud, uno sgravio fiscale al 30%, significativo che però adesso a Bruxelles deve essere negoziato, perché bisogna cercare di rendere quanto più possibile strutturale questa misura. Ecco, però adesso oltre a decontribuzione Sud serve un nuovo intervento e noi sicuramente potremmo intervenire sensibilmente su questo aspetto e secondo me collegarlo anche con il salario minimo, attenzione. Secondo me sono due interventi che vanno assolutamente fatti e vanno fatti assolutamente in modo sistematico e coordinato. Ecco, proprio il salario minimo. E certamente l'altro tema centrale di questo momento è il dibattito occupazionale del Paese. Ci sono diverse connotazioni, diverse soglie che abbiamo sentito e proposte di 9 euro, 12 euro e quant'altro. La sua posizione sul salario minimo, ma soprattutto le voglio chiedere, che è la domanda che poi fanno alcuni degli esperti ai lavori. Chi lo paga questo aumento? Guardi, partiamo dal presupposto che il salario minimo diciamo che è una battaglia di civiltà. per il Paese, certo noi non potremo mollare e cedere su questa battaglia di civiltà fin quando non si chiuderà il capitolo delle paghe da fame. Cioè, questo è evidente. Se sono paghe sotto la soglia della dignità, insomma, del lavoro, se sono paghe da fame c'è poco da discutere. È un obiettivo da raggiungere. Però, guardi, adeguare gli stipendi, quindi salari minimi, fa bene anche alle imprese. Per noi vanno detassati gli aumenti collegati ai rinnovi contrattuali e con il salario minimo, quello che... Ma non lo dico solo io, lo dicono gli studi anche internazionali, gli studi al premio Nobel Card. Non solo poi il sistema, diciamo, si riossigena complessivamente, ma teniamo conto che quando si interviene sui salari minimi, su questa soglia che ovviamente i nostri paesi sono anche direttamente competitori qui in Europa, una soglia su cui sono già intervenuti, ovviamente stiamo parlando delle paghe più basse. Quei soldi, quegli aumenti vanno direttamente in consumi. Quindi si rimette in moto anche un sistema, un circolo virtuoso che beneficia complessivamente anche le imprese. Ecco, io so che i consulenti del lavoro hanno stimato in modo significativo diciamo l'intervento per il salario minimo. Io non so se sono i 12 miliardi, o l'INAP ha parlato di 6 miliardi e qualcosa. Però ecco, il salario minimo, come ho già detto, deve essere accompagnato, è una misura che deve essere accompagnata dalla detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e quindi dal taglio del cuneo fiscale, come abbiamo già detto. E tra l'altro il salario minimo ha anche quello, il ruolo fondamentale di fonte della domanda aggregata, come dicevo. Quindi guardiamo quando consideriamo l'intervento tutti i suoi aspetti complessivamente. Peraltro non è neppure detto che vada a mortificare la contrattazione collettiva. Il nostro progetto che è al Senato, alla Commissione di lavoro del Senato, non mortifica affatto la contrattazione collettiva, ma anzi permette di espungere dal sistema quelli che sono i contratti pirata. Ecco, quelli che effettivamente sono, sapete, qualche centinaio che non hanno ragion d'essere in un sistema dove sì, la tutela collettiva ci deve essere, ma adesso la tutela collettiva rappresentativa. Diciamo che la sfida rimane proprio questa, riuscire a incidere sulle fasce più deboli, su quelle che per ora sono quelle meno tutelate e sottopagate, senza innescare l'effetto domino di aumento di tutte quante le categorie. All'interno di questo possiamo dire anche una battuta su quello che è la difficoltà dell'incontro da domanda e offerta che si sta evidenziando nel nostro mercato del lavoro. Settori che chiedono occupazione, non la trovano, altri in cui invece c'è una sorta di rifiuto. Questa cortocircuito che c'è tra domanda e offerta, a cosa è imputabile e come si può risolvere secondo lei? Guardi, il problema è complesso ovviamente, come alcuni problemi che si trascinano in Italia da tempo, dove si sono incancreniti ovviamente alcuni gangli vitali che dovrebbero favorire questa modalità. Nel Conte 2, per esempio, stavamo creando, prima di terminare l'esperienza del Conte 2, una piattaforma complessiva per poter far dialogare più efficacemente i centri dell'impiego regionali con anche le agenzie ovviamente private e l'AMPA, che è la struttura, sapete, centrale collegata al Ministero del Lavoro. Quindi la prima cosa è informatizzare tutto il sistema. Delle volte questo aspetto viene trascurato. Secondo, bisogna rinforzare i centri per l'impiego, perché chiaramente sono non tutti efficienti nell'operare e bisogna lavorare su vari aspetti. Nei settori in cui, vedete, i settori in difficoltà, sanità, turismo, meccaniche, ecco, in alcuni settori poi bisogna distinguere, in alcuni manca la formazione e noi, devo dire la verità, abbiamo già, eravamo intervenuti con riforme e strumenti a favore delle imprese, di nuove competenze dei lavoratori. Per esempio, nel settore della meccanica, adesso non sto a far l'elenco, ma tra il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e il design, il fondo salvaguardia imprese, il credito d'imposta a formazione 4.0, il fondo per le nuove competenze. Ecco, mi soffermo solo su questo, perché è uno strumento che, grazie al sostegno dello Stato, permette alle imprese di accrescere le abilità dei loro dipendenti attraverso la destiazione, ma parte l'orario di lavoro alla formazione. Ecco, questi progetti sono appunto diretti anche a realizzare la formazione. Per quanto riguarda la sanità, noi lo diamo gli angeli, che sono i nostri infermieri, ne abbiamo ovviamente seguito con grande patos tutto l'impegno, la dedizione e la benegazione professionale, ma sono tra i più sottopagati d'Europa. Quindi dobbiamo anche tener conto che se non vogliamo affidarci agli slogan da salotti TV, dove si prende di mira qualcosa e si fanno delle semplificazioni... Lo sa che prendono di mira il reddito di cittadinanza a moltissimi, no? Dicono che la causa è il reddito di cittadinanza. Beh, va bene, ma quello è uno slogan ormai politico, una battaglia politica che stanno facendo alcuni partiti, lo fanno non rendendosi conto che stanno giocando sul fuoco. Perché quello che voglio dire è qual è, attenzione, quando si ha la responsabilità di governare un paese, di migliorare una società, di trasformarla e non di cristallizzare lo status quo, allora la responsabilità è tanta. Allora, quando si fanno queste considerazioni, bisogna tenere presente, faccio un solo esempio, guardi, per capire come i problemi sono connessi. Noi, se non interveniamo oggi con salario minimo, ci precludiamo e anzi creiamo un rischio sistemico. Un rischio sistemico perché secondo il Censys 5 milioni e 700 mila persone che sono precari, i cosiddetti NIT, cioè quei giovani che ormai non cercano neppure occupazione, sono completamente, rimangono inerti, o i lavoratori poveri, rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà. Questo allora che significa? Significa questa allarme che è stato peraltro recentemente lanciato da studiosi, da analisti, dalla stessa IMSS, questo significa che fissare una soglia sotto la quale non possono scendere le retribuzioni aiuta anche a far crescere l'importo delle pensioni future, altrimenti domani, cioè un domani, stiamo parlando qui, proiettando nei decenni futuri, noi ci ritroveremo con una futura ondata di richieste di pensioni di cittadinanza. E quello che la politica delle volte, una certa politica, non capisce e non comprende, è che se ci sono delle persone che non hanno di che mangiare, se ci sono delle persone che o prendono anche una pensione, ma è una pensione che col sistema contributivo non è sufficiente, questo è un problema sociale che dovrà andrà risolto e allora è meglio prevenire, costruire un sistema che con visione e lungimiranza consenta di far crescere i consumi, far crescere i salari, tenere insieme ovviamente quella spinta che peraltro adesso in questa difficile congiuntura economica è più necessaria che mai, tra salario minimo, taglio del cuneo fiscale e ovviamente una misura di protezione sociale che va ancora di più rinforzata, migliorata. Perfetto, Presidente, io le faccio l'ultima domanda ovviamente di attualità, nella vita normale faccio il giornalista e non posso farmi sfuggire l'occasione di averla davanti. Le faccio due domande finali, una, da quanto tempo non sente Di Maio? Secondo, il governo Draghi è messo a rischio da questa spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle? Guardi, la mia telefonata con Di Maio cosa c'entra col festival del lavoro? Non c'entra, ma come l'ho detto? Come l'ho detto? La sua è una domanda eccentrica, però ho già dichiarato su queste questioni, ovviamente ho augurato anche buona fortuna a chi è andato via. La cosa importante, guardi, non è, si è osservato, si è fatto notare come non siamo più la prima forza, la forza di maggioranza relativa in Parlamento. Io mi preoccuperò il giorno in cui non saremo la prima forza nel combattere queste battaglie, di un sistema di protezione sociale che ovviamente consenta agli assoluti indigenti, a quelli che non hanno effettivamente di che sopravvivere, di avere comunque una prospettiva per arrivare a fine mese, che consenta a chi appaghi da fame di poter avere dei salari decorosi e che ovviamente in questo momento intervenga per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori, perché ricordiamolo, l'Italia è l'unico paese europeo dove i lavoratori guadagnano meno di 30 anni fa, meno 2,9%, contemporaneamente gli stipendi dei lavoratori omologhi, tedeschi, francesi, sono aumentati oltre il 30%, ecco, quindi io mi preoccuperò quando di queste battaglie non saremo più la prima forza che con vigore combatterà per questi obiettivi. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Grazie e grazie di essere intervenuto. Arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro.